Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale E oggi come vedete il troll al titolo andremo a fare le snow wars Però ovviamente prima di fare ciò lasciate un bel like, condividetevi con tutti i vostri amici Commentate se volete altri video qua nei server Etto questo non prendiamoci in chiacchiere e batung Beh esattamente non so perchè ho detto batung Però vabbè allora votiamo la mappa Mettiamo town Allora raga cosa inconsiste questa modalità Allora tu cioè noi abbiamo degli archi che sparano palle di neve Abbiamo anche palle di neve mi sa 12 palle di neve Abbiamo anche dei blocchi da costruzione che in base al colore della squadra che sei Cambiano colore ovviamente Cioè ci stanno tipo ogni 40 secondi mi sa Tipo stanno 40 secondi per 40 secondi E non so parlare 40 secondi per tipo scannarsi con le palle di neve gli archi eccetera Cioè veramente queste cose sono però vabbè E altri madonna mia quanti play stanno gioinando Ehm tipo 15 secondi o anche meno ma ora non mi ricordo Per buildare tipo per fare mure difensive e qualcosa del genere Vabbè comunque capire meglio nel dettaglio Cioè fra poco Cioè Cioè ora Guardate come potete vedere io sono squadra blu Si scrivono tipo build pace Cioè costruire pace non so che cazzo vuol dire Quindi costruiamo facciamo cose a random Vabbè per coprirci solo due secondi a random A ammazzare gente Perché ho potuto Allora se tipo mi butto qui Mi scaputumber la oltre u u u hittato cioè ha killato più che altro u u u madonna raga lo ha scaduto cioè lo ha hitato l'ho killato quindi siamo a due kill come potete vedere in alto a destra e zero morti sta anche il il timer per le build per il tempo per buildare u u hit anzi kill oh è rip ma non è caccia ma non ho killato vabbè dai raga tre tre kill è zero cioè zero è una morte dai ci ci sta ci sta ho fatto una grande comunque raga questo oh porco di questo qui sarà l'ultimo video di questo anno letteralmente di merda quindi 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 non lo so uno che kill della madonna way baby comunque e quindi raga solamente per questo anno di merda lasciate un bel like speriamo che il 2021 sarebbe potrebbe essere un anno migliore speriamo che è un anno migliore speriamo comunque la madonna rip 5 5 e infatti rip perché sono anche morto vabbè comunque ax rimani concentrato eeeh la 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 bello bello tuo da lì quanto quanto uuuuuh da dove minzica l'ho preso raga andò l'ho preso non è abbiamo perso mi so eh si eh si perché nell'attacca sotto loro stavano anche di più quindi vabbè non sono manco tre migliori lì e quindi abbiamo fatto una partita a mio parere buona ovviamente non ci fermo qui eeeh le battite alle palesti eeeh facciamo un'altra un altro game ovviamente ok ci potrebbe stare questo fatto raga la serie di la serie vanilla eeeh ritornerà eeeh nel 2021 dai si praticamente nel 2021 perché in questo momento non ho voglia di registrare ho più voglia di fare ho più voglia di fare i server quindi non ho molta voglia di registrare vanilla e vabbè rip debba buildare muoviamoci muoviamoci facciamo build a casa proprio proprio giusto per difendersi un ultimino per me qua sbagliano a farsi le ok così potremmo fare un tocco ok la 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 un'altra kill ok un'altra ancora raga provo a fare una semi provata ok no non mi è riuscito non mi è riuscito per niente però almeno cioè se lo kill l'ultimo era davvero una cosa epicissimamente epicio allora ragazzi stanno leggermente ma che cosa ma non era della nostra squadra quello va bene ok e basta vieni qua fuck oh dove l'ho preso dove l'ho preso ma allora e vabbè e vabbè mi ero sporgisciuto troppo comunque comunque ragazzi stanno rimontando comunque ma non voglio dire però ma non è che voglio proprio dire però ci stanno leggermente rimontando oh oh kill for me kill per me allora comunque ragazzi se volete la bedwars ovviamente fatelo sapere questi argomenti faccio veramente sboccare della bedwars e magari tipo fare un video insieme a un nemico ma non lo so no hanno vinto loro hanno vinto loro e e quindi direi di fare l'ultima partita perché perché non lo so giusto così perché raga io credo che il video sta venendo lungo abbastanza sta sto arriccando da un quarto d'ora e quindi vabbè con i vari tagli usciano 9-10 minuti ma non lo so 10 minuti è il massimo cioè no e quindi non lo so siamo sempre il team blu e ovviamente cerchiamo di giocarcelo bene ovviamente come facciamo sempre stavo stavo il blocco dietro quindi ero shiftato e quindi mi ha bloccato il blocco dietro e quindi vabbè dai una kill una morte gg ma no ma hanno stilato a kill mi devo ricordare che le frecce cioè le palle di neve non so come le frecce che scendono subito invece le palle di neve ci aumentano non può scendere al capo dovremmo essere quello facciamoci subito una partita qua random proprio allora così potrebbe andare bene si dai cazzo di pane proprio dai via così quindi una grande brutta donna per quanto raga devo fare una cosa via uu gg uu gg uu nice 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 vabbè raga abbiamo praticamente vinto e devo fare una cosa importantissima no build please build pace vabbè allora sbildiamo così a cacchio di cane appena facciamo due uno pum victory tre kill ho fatto io l'ultima kill per kill raga devo dire sono abbastanza poche e non sono manco uno dei migliori cioè ho fatto tutto lui quante kill 16 kill credo vabbè comunque io spero che questo video vi sia piaciuto se è è stato lasciato like iscrizione campanella condividere i video con tutti i vostri amici e come sempre da ax è tutto ci bochiamo in un presto video ciao ciao